L'avevate rimessa in piedi, poi un episodio, una grande reazione dopo un primo tempo di grande difficoltà, cosa sofferenza. Sì, è vero, non siamo partiti benissimo, poi siamo riusciti a rimetterla in piedi sotto di 3-0, non era facile, dispiace per questo gol alla fine, però abbiamo fatto bene e sicuramente dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto in maniera positiva. Ti sei già preso questa squadra, hai giocato benissimo, personalità, nonostante avessi di fronte un campione come Ronaldo? No, io ho cercato di fare il mio lavoro, quello che mi ha chiesto il mister, sono contento per la prestazione di tutta la squadra e, ripeto, dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. Hai duellato con Ronaldo, mister 105 milioni e hai bruciato De Ligt che ne è costato 85 in occasione del gol, non male come... Questi sono discorsi vostri, a me non interessa, insomma sono contento per il gol, però sicuramente speravo di uscire da qui con almeno un punto.